Israele ha colpito obiettivi di Hamas a Gaza in risposta a un attacco missilistico lanciato dall'anclave palestinese contro la cittadina di Ashkelon. L'aviazione israeliana ha colpito due siti di produzione di munizioni per missili, un complesso militare e infrastrutture sotterranee nella città. Sarebbe stato distrutto anche, stavolta da terra, un mezzo che stazionava vicino a una postazione di Hamas. L'organizzazione integralista islamica, che governa Gaza, non ha rivendicato gli attacchi missilistici, ma Gerusalemme non ha dubbi riguardo la paternità dell'azione. Domenica scorsa, invece, due razzi sono stati lanciati contro il centro di Israele e sono caduti in aree disabitate, non provocando né feriti né danni. Hamas ha affermato che i razzi sono stati lanciati accidentalmente, una spiegazione che Zahal, l'esercito israeliano, ha in quel caso apparentemente accettato. Grazie. 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 Grazie.